salve a tutti grazie e benvenuti a sabato di questo nuovissimo di minecraft oggi siamo trovati con un bellissimo parkour e quelli preferiti di nico vero nico già esercitando guarda questo si è caduto nico è ma perché è stato un problema guarda bravissimo nico in questo parkour andremo ad affrontare tutte e tre le dimensioni over world nether e and nico sei pronto land mi ha indicato però quello che sono neri sei la fine del mondo negativo avremo esattamente 14 minuti a partire da ora ho fatto partire il timer nico tanti 14 minuti scusami meglio ripetere la parte iniziale mi sto già arrabbiando con calma nico mai ripremuto il costo dello start è normale no ma c'è il timer al telefono che no perché questa cosa andamina vision ha visto che sei gentile 6 ma io non credo che lo farò se più non ti aspetto a me ma guardate aspetto anche per chi sono gentile va bene ma che cavolo ma vai già raggiù ma vai vergognati di respirare dai tutti i partiti io non mi tipo dalle persone che vanno schifo e poi ti assalgono le spalle al suo bene no questo è essere uno schifo c'è un nico volevi dire se un nico non è mai scorretto nico è debba quando un rex player player e verra e scorre è una scorreggia tipo che è la scorreggia che tu vuoi definire la scorreggia la scorra è tipo a scorreggia e si però se tu vuoi divirti così io non so di video così ma tutto si è diviso così cioè tu hai detto questo termine inventato no scorret è giusto nella lingua dell'ocos a e cost è la lingua dell'ocos che finisce senza pensi con lo coso ma lo vissi un salto così no io sono incredibilmente potentissimo non potrei mai aggiungermi eh no sì sì è chiaro è chiaro che sia così sono arrivato in un bel punto qua c'è delle zucche c'è il cactus il ma sto cavolo adesso parli con il mio amico caccia pandasi io ho passato lì più adesso parli con lui ciao panda perché è scomparso il mio tempo non c'è più il mio tempo non c'è più il tuo tempo lo vedi a testa che non c'è il mio tempo è sparito il tuo tempo panda mi ha bugato il tempo magari non parla l'inglese how no se n'è andato pandasi l'hai spaventato era il mio amico pandasi l'ho scritto come sta non lo volevo spaventare ma io non lo so guarda spaventi pure il mio amico panda panda è inutile che gli scrivi panda ormai panda non c'è più magari dopo arriva un altro amico no prima ce n'erano altri due che abbiamo dovuto bannare ma io non credo che vogliono essere tuoi amici ma come ma io voglio dei nuovi amici non voglio sempre nico che è sempre qua c'è nico va bene ma io infatti non so panda scrivono in inglese welcome back my friend no scrivo io my friend sto scrivendo io troppo tardi ai ai no sto andando scrivendo col mio amico i love you hai fatto superarmi ti rendi conto? no sono caduto panda ma smetti di essere così invadente ma le persone che appena cioè se tu incontri una persona dici ti amo quella scappa ti fai paura eh hai ragione in effetti ragione di queste cose come prime cose di partire con calma ragazzi non andate mai dalle persone a dire ti amo che le spaventate nico dove sei andato? ma che ne so sono sopra del tuo io ti ho superato hai sberato strada nico ma che vuoi ma non è vero sono avanti I am avanti sono caduto prima quando ti ho superato per mezzo secondo ah cioè mi hai superato per mezzo secondo però sei talmente scarso che hai perso col mezzo secondo di vantaggio ma fate i cavoli tuoi eh no questi sono cavoli miei questi cioè questo come no che scusano ciao nico benvenuto hai fatto per dare anche un amico non c'è più panda ora era tuo amico era mio amico lui ma che ma non è vero l'ho portato io qua dentro io ho passato io lì e perché cresce ogni volta allora panda rasi perché tu lo spaventi ma non è vero la prima non capiva italiano poi si è spaventato della hello view eh dici poco eh non è colpa mia dai cioè stavo stavo facendo un po' di emozione cioè c'evole un po' di emozione nella vita un po' di emozione sì se non ti per emozionare le persone ci chiamo se non si è emotivi tu sei emotivo? no mi spiace per te allora ehi sono dopo di te esattamente qui nico allora vai lì bravo salta lì salta lì salta lì salta lì ho visto l'ho visto bravo ce l'hai fatta tranquillo che quando c'è un obiettivo non sbaglio l'obiettivo funghifero qua è maggiore di ogni altra cosa l'obiettivo funghifero non l'ho mai sentito a panna cosa vuoi dare mi piace di stare poi sono una brava persona non ti ho picchiato va bene ok come vuoi te sei tu quello che porca miseria quello che picchia io non picchio nessuno sono bravo io allora non sappiamo cosa è successo ma si è tipo tolto il timer adesso non sappiamo più dove eravamo arrivati prima è stato panda è stato panda panda ci ha fatto una magia oscura è stato panda il timer l'avevamo stoppato e quindi siamo andati un po' avanti così senza timer però il tuo amico che ci sta vendicando si sta vendicando è giusto che sia così anche l'avrei fatto il tuo amico pane che c'è fatto bagga tutto è colpa tua quindi io sono il re dei panda tu sei che di pirma non di panda panda lento nel cuore no è meglio scherzo era meglio skeleton town non aveva neanche un motto skeleton town non è che serve un motto serve la bellezza della città infatti a me città era bellissima al conto della tua no ma devo che sovendo di pubblica fare un parkour mi sono tranquillo anche se anche se risolve quei problemi ci avrei comunque a fare parkour ovviamente io quasi tu quasi io quasi no quasi modo era quello che abitava nella torre mi sa tipo è certo è un atore io ho arrivato da am che torre sei definendo notredam come una torre abitava nella torre di notredam non è una torre la cattedrale vabbè io vado comunque nel nether se non ti dispiace attimo sto arrivando anch'io nel nether ti sto per raggiungere ma io non credo di volerti aspettare oh sono nether di nether come si va qui c'è l'acqua in fondo devi buttare sono buttato nell'acqua ah ma allora sei letteralmente dietro di me tu sei appena arrivato nel nether mi sento un casino enorme ma è che me frega a me ma non mi interessa secondo te sinceramente a me non mi frega di te però sei avanti di me non so come fai a essere davanti di me io allora dovrebbe fregartene di questa cosa no e qui davanti di me non si davanti ah ma non di me tu non sai molto bene le proposizioni mi sa ah infatti preposizioni che è successo ti ha picchiato un piccio ci sono le preposizioni semplici preposizioni articolate quelle semplici sono dia da in con super tra fra ok le articolate come le componi sono composte da dia da in con super tra fra più gli articoli indeterminati gli articoli indeterminativi determinativi determinativi illo la bravo grazie ti vede che non sai niente allora tutto totalmente quando scorreggia puzza vabbè chi sente anche che non ti stai le mie scorreggie non puzzano purtroppo come purtroppo dovrebbe essere un banto no no effettivamente un banto perché posso farle sono rumorose però non puzzano ah sono bello sono silenziosi non puzzano allora le mie sono rumorose ma non puzzano è molto bello perché tipo mi diverto ogni tanto a fare delle melodie però poi non muoio perché capito no ma è bello ma se sei compagnia di altri persone fai le tue melodie particolari eh no quello è un problema perché essendo che fanno rumore nonostante non puzzino non posso farle perché comunque si sentirebbero ok ma conosci qualcuno che le fa che non si sentono e non puzzano o qualcuno che le fa che si sentono e puzzano quello è il peggioro di tutti non lo so io non ho questi problemi io mi diverto a farle ok va bene questo si diverte a fare scorreggere andiamo avanti tu dove sei che non ti vedo più da mezz'ora sono quasi al nether all'end mi sa ma sei tutto di medico sono al nether ah ok ho capito dove sei qua sono nether dragon come nether dragon ma sei 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 esattamente qui di fronte a medico sto facendo one cycle facendo one cycle ok questo non è una spedra non è una spedra non è una spedra non è una spedra è quasi morto attenzione hai ucciso il dragon photo achievement bravo nico sono grande lo vedi in chat no non lo vedo perché non è vero ma c'è scritto aiuto 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 di nether dragon sei davanti a me nico ti sto guardando ah free the end free the end ti sto osservando ciao io sono su dei rail sì anche io sono su dei rail come varmi rail sono belli rail un po male parca miseria non lo so fare il magma bloc il magma bloc è proprio brutto aspetta che ti sto raggiungendo ah nico ti ho appena raggiunto che dimostro il cavolo che me ne frega che ho appena raggiunto nico ma io sono nel land non sei nel and e invece si è a dire si guarda 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 guardi guardi qui ma non è lente questo nico e però si vede e si vede land e vediamo bene per ti lo vedi a 6 squadri puntamenti picchino no 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 che infame clown accettato dice che non lo dice è un po tutti a tratta o meno male o meno ma non lo dicono se magari non lo dice lo dicono e non volete volete io l'ho preso grazie prego ma ci sono le barriere mannaggia non si può cadere barriere che bravo e sono troppo bravo ma che bravo sono povola ma che provolo un mamma è stato per cadere stava per dire una paraccia ok non nicole parloci non si dicono detto da lui poi dico paracini video beh nei miei video no penso come lente non c'è più comunque a sì che l'ultimo giretto io prima l'ho visto te lo giuro ma non c'è più non c'è più quanto manca al timer così per capire quanto lo dico io lo vedo qua ma manca ancora bogo bogo ma tipo poco tanto poco poco tanto in realtà non poco poco ma poco tanto quindi arrivo al land mi stai dicendo da se che ci arriviamo land in teori dovevo arrivarci al andino easy easy per nico eccomi qua sono anch'io rallendo ormai sono praticamente land siamo land entrambi manca quasi un minuto nico quasi un minuto quindi è tutta questione di velocità in questo minuto esatto se tu sbagli qualcosa hai perso per sempre ti avviso allo stesso modo se tu sbagli hai perso mai non potrei mai sbagliare qualcosa the end the end la fine del gioco è qua dove sei dico ho già quantissimo io ti vi do lì ti chiono già al level successivo da questo per aggiungere io sento la mia potenza assurda a parte difficile un errore può essere letale oltre ad andorre dito sarà letale e no bisogna parlare nei video sono parte a parla posto mio dai e ma no perché così tu mi fai distrarre io non lo farei mai non potrei mai farlo in vita mia invece sì io lo so che questo è il tuo intento dico è per te la fine sono avanti non importa fai quello che davanti non sei davanti è invece sì perché di andarla prenderà avanti noi fa me ok altro c'è che poi presa poco 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 lì cosa dentro tempo scusa pochissimo ma io vorrei vincere basta sono poi vincere mai piru piru altro c'è poi preso è uguale dagli e agli e dagli e ok su bagli e l'eco room attraverso è finito basta un quadrato di te praticamente è quello che stai dicendo a 45 minuti non è vero di bugie o non è sto sbagliando uno dalla vita è guarda paramari guardi qui fuori suonando dov'è locco dove aspetta che sotto la scala è lì sotto ok allora questo io la dedica quando siamo allo stesso livello siamo nello stesso il paese siamo nello stesso livello ma c'è poi allora chi riguarda prossimo non è vero ma non ha senso questa cosa vabbè white tanto lo sai già chi deve considerare come vincitore su white per favore interna di me questo arrivando anch'io ai white su di così ho visto che sei lì dietro si per il win non è la vita non ha finita uguale e non perderò poi qua si fa così 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 e no 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 mi raccomando sai che ha vinto non è questo video vi sia piaciuto noi ci vediamo domani con l'ultimo video su questi stati ciao a tutti